Ritirato a pochi minuti dall'inizio lo sciopero della circunvesuviana di 4 ore è previsto per oggi dalle 9 alle 13. La protesta sindacale era stata indetta da Confail per chiedere all'EAV di ripristinare i titoli di viaggio gratuiti per i parenti dei dipendenti della società. Corse regolari dunque, ma disagi che restano per moltissimi pendolari, che a conoscenza dello sciopero già avevano rinunciato a prendere i treni della circunvesuviana. Quattro fessi, non mi fai ricordi, non mi fai ricordi. Cerco di prendere il treno, poi viene sorpresso, poi sento casini con la direzione, non si organizzano, i fondi comunque vanno smarriti, a volte comunque siamo costretti pure a non prendere il treno o a chiamare i familiari oppure a viaggere con l'autobus. Io devo raggiungere San Valentino Torio per una tratta di pochi chilometri, saranno circa una decina di chilometri. Sono costretto a prendere una circunvesuviana e andare un attimo a Napoli perdendo 40 minuti di tratta. Sicuramente non troverò una coincidenza nell'immediato e dopo devo ritornare indietro per poter cambiare una tratta. Mi sembra assurdo che non ci sia un collegamento per pochi chilometri, né per le ferrovie dello Stato né per la circunvesuviana. E meno male che questa mattina non c'è sciopero. Fortunatamente stamattina non c'è sciopero, altrimenti chissà che ora è arrivato. Così come restano le polemiche per i disagi del fine settimana, viaggiatori inferociti e tanto caos nella giornata di ieri per il blackout elettrico che ha lasciato al buio a Napoli le stazioni della circunvesuviana di Porta Nolana e Piazza Garibaldi. Biglietterie e tornelli fuori uso, ma soprattutto spenta le luci della segnaletica che consente ai treni di transitare in sicurezza. E ancora disagi nel capoluogo campano a partire da questa mattina per via del blocco delle auto inquinanti che interesserà la città tutti i giorni dispari, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 fino alla prossima primavera.